Da Versa Consumer Electronics, il grande negozio di elettrodomestici, elettronica e casalinghi presso il centro di Ano di Atena Lucana e in Via Godelmo a Trinità di Sala Consilina, fino al 21 novembre, rottamare conviene! Smart TV 32 pollici LG a 233,92€ con bonus TV e rottamazione iPhone 13 Pro 256GB, tripla fotocamera a 1.279,90€ Asciugatrice Beco 8 kg A++ a 389,90€ Sbattitore elettrico con ciotola a 29,90€ Vieni a visitarci in sicurezza oppure ordina con WhatsApp al 351 2193 973 o sulla pagina Facebook Versa Consumer Versa, presso il centro di Ano di Atena Lucana e in Via Godelmo a Trinità di Sala Consilina